Denuncia i carabinieri di essere vittima di estorsione con intimidazioni verso i suoi familiari, fornendo i particolari di cospicui versamenti di denaro a sconosciuti. Peccato che fosse tutto un blef per nascondere le importanti cifre spese dall'individuo per acquistare cocaina, da cui era diventato dipendente. I carabinieri di Bassano ci hanno impiegato poche settimane per smascherare l'uomo, un imprenditore del posto, denunciato per simulazione di reato. Dal suo racconto iniziale sarebbe stato avvicinato al bar da alcuni individui che gli avevano fatto capire che erano pronti a tutto se lui non avesse dato loro del denaro, ma qualcosa non aveva convinto gli inquirenti che addirittura avevano ipotizzato il sospetto di una partecipazione mafiosa in questo evento. Partite le indagini si è invece scoperto che l'imprenditore si era inventato la storia per mettere a tacere le continue richieste di chiarimento da parte del commercialista che non capiva dove fossero finiti i soldi dell'attività in assenza di idonea documentazione.